Ciao a tutti e benvenuti o bentornati su Magis of Lotus. Io sono Simone, oggi andrò a parlare, a fare un ragionamento per quanto riguarda i formati e andrò ad analizzare i motivi per cui, a mio parere, ci sono due formati, in particolare quelli che vedete nel titolo, quindi Pauper e Commander, specialmente Multiplayer, che sembrano effettivamente in questo momento avere una fortissima prevalenza sugli altri formati a livello di numero di giocatori. Andrò ad analizzare quali sono le cause, i motivi, il perché di queste scelte e soprattutto se questo è vero in generale oppure se è una caratteristica locale o mondiale addirittura. Andrò a vedere una cosa alla volta e a capire le motivazioni. Allora, prima di tutto c'è da fare un'introduzione su quelle che sono le basi che mi fanno dire una cosa di questo tipo. Le basi sono legate sia ai tornei locali, quindi a quella che è la mia esperienza locale nei negozi che frequento, dove effettivamente vedo grossissime, ma grossissime, community, soprattutto riguardanti il Commander Multiplayer, ma devo dire anche discrete community per quanto riguarda il Pauper, siano esse in negozio o addirittura private, letteralmente a casa, ci sono tantissimi giocatori che mi dicono io ho un gruppo di amici con cui mi trovo alla sera, siamo 6, 7, 8 giocatori, ci troviamo al mercoledì sera e giochiamo Pauper a casa mia. Tantissime persone, mentre mi succede molto più di rado per altri formati. Altre motivazioni, altri dati alla mano sono per esempio i tornei grossi di questi formati che fanno dei numeri davvero incredibili. Pensiamo al Duel Commander che in Francia, Tolosa, capitale del Duel Commander, ha fatto un numero altissimo, 452 player ultimamente, con un evento davvero molto molto grosso. Oppure al Pauper Geddon italiano che ha fatto 481 player a giugno e che sicuramente nei prossimi Pauper Geddon farà dei numeri molto vicini ai 500 player, che ragazzi se pensate che sono dei formati non sponsorizzati, nel senso che non sono gestiti dalla Wizard e non sono dei tornei ufficiali che ti qualificano al Pro Tour o al GP o a tornei competitivi. Sono tutti tornei, potremmo dire, organizzati da un gruppo di persone ristretto con dei premi in paglio, sì, ma non competitivi dal punto di vista della competizione ufficiale di Magic, non ti portano al Mondiale, al Pro Tour. Quindi i numeri a me pare sono davvero incredibili. In più ci sono davvero delle community gigantesche. Io per esempio vado a giocare al giovedì sera al Jolly Joker, lo sapete, e Commander Centurion, che è il formato Commander 1v1 più giocato in Italia, fa una ventina di player al giovedì sera, che è tantissimo come numero. E gli altri tavoli sono praticamente sempre occupati dai giocatori di Commander Multiplayer, che è uno dei formati più giocati, a mio parere, attualmente il formato più giocato in assoluto di Magic. Ovviamente stiamo escludendo il Limited per quanto riguarda questo discorso, stiamo parlando di formati puramente costruito, però c'è questa forte, forte pendenza verso questi due formati. Quali sono le motivazioni? Allora, le motivazioni possono essere davvero tantissime, ma a mio parere ha senso andare ad analizzare prima quali sono le motivazioni per cui gli altri formati sono meno giocati e vedere anche se effettivamente è così sempre e in tutte le situazioni. Partendo dallo standard, la motivazione per cui lo standard è un formato attualmente molto molto poco giocato, devo dire che è innanzitutto economica, perché il formato comunque non è economico, dato che ruota abbastanza velocemente, non è facile reperire le carte subito, immediatamente, spesso ci va del tempo, spesso per montare un mazzo servono delle carte davvero molto costose, magari un giocatore non ha voglia di spendere e per di più quando questo formato, questa espansione per esempio dovresse uscire dal formato standard, queste carte potrebbero anche crollare, ci sono tante carte che mantengono un valore di mercato altissimo in standard, ma che poi dopo la rotazione dell'espansione vanno a perdere di significato, vanno a perdere di valore in maniera molto pesante. Lo standard quindi rimane un formato un pochino rilegato a quelli che sono i giocatori competitivi che sono in qualche modo forzati a giocarlo se vogliono fare il pro tour standard banalmente o la stagione riguardante a questo formato. Per quanto riguarda invece il Pioneer, le motivazioni sono secondo me legate non solo a un punto di vista economico, in quanto il formato se dovessimo fare un rapporto prezzo e come dire durabilità del mazzo non è poi così male, è un ottimo formato. Il problema è che effettivamente le community sono ancora troppo piccole che il formato non è giocato nei negozi, quindi la gente è difficilmente spinta a giocare un formato non molto frequentato, perché se io devo montare un mazzo e spendere 400-500 euro per poi avere magari una community di 6-7 persone non ha alcun senso, mi metto magari a montare un mazzo di un altro formato che è più frequentato. Quindi le motivazioni per quanto riguarda il Pioneer sono principalmente di giocabilità, secondo me è un formato che prima o poi esploderà, ma non è ancora questo il momento e è evidente questa cosa. Per quanto riguarda invece il Modern, il Modern credo che sia il formato più sano in questo momento, se non addirittura il più giocato e il più sano, però ha un grosso problema, ovvero il costo di entrata. Il costo di entrata per i nuovi giocatori è davvero altissimo, si sta alzando in una maniera troppo pesante e quindi tantissimi giocatori che vorrebbero giocare Modern non hanno semplicemente la possibilità economica. Il Modern è frequentato principalmente da persone che giocano già da tempo e che sono o legate al circuito competitivo e quindi per forza di cose giocano il formato, oppure hanno una sufficiente compravendita di carte per potersi permettere di comprare altri mazzi, oppure ancora hanno una stabilità economica che gli permette di poter montarsi un mazzo quando vogliono, però la vedo veramente grigia per un ragazzino di 16 anni, 17 anni, entrare e giocare Modern, cioè è praticamente impossibile. O ancora peggio, anche un adulto che semplicemente si sta approcciando a Magic difficilmente spenderà 1000 euro per montare un mazzo dall'oggi al domani senza essere neanche sicuro. È molto più probabile che si avvicini a dei formati che magari gli permettono di giocare in maniera più economica e con i propri amici. Questo è un aspetto che a mio parere vale tantissimo. Quindi abbiamo detto quello economico ma soprattutto quello degli amici. Perché dico questo? Perché se faccio l'esempio del Commander, soprattutto il Commander Multiplayer, la motivazione non è che è economica. Allora sì, il Commander può essere sia caro che economico in realtà, però tendenzialmente il Commander Multiplayer giocato a casa tra amici o al tavolo del negozio di turno tra amici non è un formato costoso perché comunque basta non giocare le bombe, ci divertiamo, ci beviamo la birra, facciamo due parole e intanto giochiamo a Magic. Quindi è in qualche modo un formato molto più friendly, anzi moltissimo più friendly, molto più gioco di società potremmo dire, quindi quasi fosse un gioco da tavolo da giocare insieme agli amici e accessibile a tutti i giocatori per n motivi che sono quelli economici, come detto prima, potete comprare tutti quanti un precostruito e in 4-5 ci troviamo e giochiamo con i precostruiti. Il livello è basso per tutti, quindi vuol dire che tutti se lo giocano bene possono giocare e vincere la partita tranquillamente. Il costo di entrata è relativamente basso perché un precostruito comunque si compra con una quarantina di euro, quindi non è che parliamo di cifre assurde e poi ho la possibilità in futuro di migliorarlo, magari comprando delle carte eccetera. E terza motivazione, è ottimo anche a livello di rulings un po' di tutti, per tutti. Perché questo? Perché è vero che il commander ha delle regole molto complesse, ci sono molte interazioni, ci sono dei board molto intensive, ci sono n fattori che rendono comunque complesso giocare a commander multiplayer e ci tengo a specificarlo. Però è anche vero che per un giocatore novizio inserirsi in questo contesto, seppur complicato, potrebbe essere più semplice per assurdo che inserirsi in un modern o in un pioneer. Perché? Anche se ho le regole più complesse, stiamo giocando in 4-5 persone, siamo al tavolo assieme che ci beviamo una birra, il livello di competitività è molto più basso, c'è il mio amico che mi aiuta, che mi consiglia, posso anche permettermi di farmi, di far vedere la mano a un mio amico banalmente, dirgli, ascolta, non so come funziona questa interazione, me la spieghi, cioè non c'è competitività, non c'è un problema se si fanno determinate cose. E quindi è veramente accessibile anche all'ultimo arrivato che non ha mai giocato a Magic. Al contrario, se sto facendo un torneo, sia esso di standard, di pioneer, di moderno, quello che volete voi, non è che posso dire al vicino gioco questa, gioco questa e chiedere a lui consigli su cosa è meglio, cosa è peggio, perché non si può fare ad un torneo questa cosa qua. E quindi questo rappresenta già una barriera molto alta. Per di più c'è anche da aggiungere il fattore impegno, tra virgolette, che uno vuole mettere. Cioè mentre il commander lo monto, ce l'ho lì, ci gioco oggi, ci gioco fra un anno, chi se ne frega, non ha importanza, formati come modern, standard e pioneer vanno seguiti. Non è che potete pensare di montare un mazzo, non guardarlo più per due anni, poi dopo due anni riprenderlo, giocare ancora tra gli amici, tutto come prima, perché saranno cambiate le carte, saranno cambiate le cose. Il commander, se giocato con un livello basso come quello del precostruito, se anche tu giochi un precostruito che ha un anno di età, boh, chi se ne frega, cioè non fa la differenza. Se le carte sono quelle, cambieranno magari alcune meccaniche, però il livello è lo stesso. Quindi c'è veramente un fattore di non competitività molto molto pesante. Per quanto riguarda invece il discorso, questo per il commander, per quanto riguarda invece il discorso del pauper, è sicuramente una motivazione per lo più economica. Il pauper è un formato talmente economico che lo rende accessibile a tutti i giocatori. Scusate. Questo è quindi un fattore di ingresso altissimo per tutti, perché, pensateci, nel vostro negozio c'è una community di pauper, però c'è anche una community di modern. Voi siete un giocatore novizio che non avete mai giocato a Magic, andate dal negoziante e gli dite io voglio iniziare a giocare a Magic. Non so se mi piace, non ho idea di come sarà. Cosa faccio? Il negoziante 99% vi dirà monta pauper e vai a giocare pauper, perché spendi 50€ e se poi non ti piace pace bene butti via tutto, vendi il mazzo per 50€ di nuovo e hai risolto il problema. Non vi dirà mai spendi un K e 1000€ e monta modern, non succederà mai. Per di più il power level del pauper, seppur alto, ha comunque delle interazioni e delle meccaniche che sono un po' più semplici rispetto a quelle che potrebbero essere di un modern o di un pioneer, perché non ci sono alcune cose come per esempio i planeswalker, non ci sono alcune sinergie stra difficili, è un pochino più semplice come formato. Dipende ovviamente anche dal mazzo, ci sono dei mazzi molto complessi, però tendenzialmente ha delle meccaniche che sono in generale un pelo più semplici e quindi anche una difficoltà minore per il nuovo giocatore per inserirsi. Tutto questo discorso, tutto questo purpur di roba per dire che cosa? Che effettivamente pauper e multiplayer scavalcheranno gli altri formati? No, assolutamente no, o meglio, a livello di numero di giocatori sì e probabilmente l'hanno già fatto, è molto più facile trovare una community di commander multiplayer grossa piuttosto che una community di modern grossa. Tuttavia per quanto riguarda il discorso di competitivo, quindi per i giocatori che amano un po' più adrenalina, non sono formati che sono esattamente adatti, sono molto più adatti a giocatori friendly. Il pauper forse tanto quanto, ma il commander indubbiamente è più adatto a giocatori friendly che non hanno voglia di impegnarsi più di tanto in magic. Giocatori che invece amano la competizione, vogliono fare tornei, hanno degli obiettivi, sicuramente si allontaneranno ben presto da questi formati, sicuramente si allontaneranno subito dal multiplayer e probabilmente anche dal pauper, perché sebbene sia un formato che ha un minimo di competitività, se voi siete dei giocatori che ambite a fare il GP non è comunque il formato giusto, perché non è finanziato, non è sponsorizzato direttamente dalla casa madre e questo vi farà indubbiamente prima o poi slittare su altro. Tutto questo discorso che ho fatto quindi per dire che le due cose sono da vedere separatamente. Magic in questo momento è un formato, sì un formato, è un gioco estremamente sano anche grazie a questa sua versatilità, ovvero la capacità di avere dei formati che accontentano i giocatori competitivi e in parallelo avere dei formati che accontentano i giocatori invece più friendly e meno competitivi, in modo tale da dare un po' un gioco, un formato per tutti i gusti e per tutti quanti e questa è una cosa estremamente positiva di Magic che a mio parere non esiste in nessun altro gioco di carte in questo momento. Ovviamente la Wizard spingerà entrambe le situazioni, continua a far uscire un sacco di set un sacco di carte relative al Commander così come continua a far uscire un sacco di carte relative agli altri formati e quindi ragazzi state tranquilli, sia che voi siate team friendly, sia che voi siate team competitivo, veramente non ci sono paure e non dovete pensare che questi due formati scavalchino completamente gli altri. Anche se, devo dire, chiudo con questa riflessione, a livello di numero di giocatori sarà molto più facile per voi trovare una community relativa a questi formati e questo purtroppo è un dato di fatto. Non è detto però che la Wizard possa fare un passo ulteriore, magari nel futuro prossimo, per cercare di sponsorizzare ancora di più i formati competitivi, magari inserendo un sacco di promo, un sacco di cose interessanti che i negozianti dovranno dare in dei tornei sanzionati, stabiliti dalla Wizard, di un formato preciso. Questa cosa è già successa in passato, esempio delle promo che vengono date se il negoziante organizza un torneo Pioneer, Modern, Standard. Questo lo potrebbero fare e sicuramente o prima o poi succederà, anche se tendenzialmente preferiscono lasciare il libero arbitrio al negoziante sulla scelta del formato. Quindi ragazzi, non temete, sia che voi siate friendly che competitivi, ce n'è per tutti. Magic è bello proprio per questo motivo. Detto ciò, chiudo con questo discorso, vi invito a lasciare nei commenti il vostro parere. Se pensate che Pauper e Commander scavalcheranno gli altri formati, anche se numericamente parlando l'hanno già fatto effettivamente o lo stanno facendo, effettivamente diventeranno gli unici formati giocati, oppure se anche voi siete del parere che sì, saranno i formati più giocati, ma per quanto riguarda la sfera non competitiva, mentre per quanto riguarda la sfera competitiva comunque non verranno mai inseriti e rimarrà fedele a quelli che sono i formati tradizionali, Modern, Pioneer ed eventualmente Standard. Fatemelo sapere nei commenti e risponderò nel più breve tempo possibile. Ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!